Ferrero, voglio dire una cosa che adesso confesso e ne pagherò tutte le conseguenze. Io, siccome non sono statalista, non sono di sinistra, evidentemente. E su questa dichiarazione io andrei in pubblicità. Ci verruiamo. E anch'io sono statalista. Andiamo in pubblicità. Io non sono statalista. Ma cosa vuol dire? La sanità deve essere pubblica o pubblica? Ma certo, la sanità è educazione. E allora sei statalista, che vuoi? La sanità deve essere pubblica. Ma io, è perché... Scusatemi, però non sono statalista anch'io. E la gestione del territorio deve essere pubblica. Ma come a fumare? Siamo ancora in onda, Crosetto. Beh, vabbè, Crosetto è meraviglioso. Allora, io voglio sapere, ho saltato, no, non abbiamo staccato, ancora ci danno due minuti mi pare di capire.